Gli occhi degli sportivi di Ariadne Erpino sono tutti puntati su Ciro Davide Rizzo, il campione mondiale di biliardo a 5 berilli del 2019 che stasera alle 21.30 in diretta sul Resport disputerà la semifinale del campionato nazionale. Rizzo, 42enne nativo di Bagheria a Palermo, è tesserato sul tricolle presso la Royal Ingame timonata dal presidente Rosario Cavalletti. Rizzo, da quando ha scoperto di avere la passione per il biliardo, si è buttato anima e corpo in una specialità che è sicuramente affascinante, difficile, ma soprattutto impegnativa. In carriera vanta una serie sterminata di successi in tornei regionali e nazionali. La ciliegina sulla torta è arrivata con il titolo mondiale del 2019. Durante l'ultimo anno anche le attività sportive legate al biliardo hanno risentito pesantemente dell'emergenza sanitaria. La stessa struttura arenese di Cavalletti ha dovuto fare i conti con questa realtà. Ma da qualche mese la situazione è migliorata. Sono in riprese con le dovute cautele, le gare, ma soprattutto gli allenamenti. Ciro Davide Rizzo ha già deliziato gli appassionati di questo sport con i suoi virtuosismi.